A due la partita, una Juve che due volte ha rimontato lo svantaggio e poi ha trovato il gol finale con Pé, visibilmente emozionato. Allegri dice che la condizione c'è, anche perché siamo partiti con un po' di difficoltà, poi però il fatto di aver reagito è un buon segnale anche dal punto di vista fisico. Sicuramente, anche se è vero che all'ottantasettesimo stava perdendo due a uno, quindi questo significa. E se vuoi è stata a lungo la squadra titolare, finché la squadra titolare è stata in campo stava perdendo 0 a 1. Quindi anche qua qualche preoccupazione ci può essere, non sembra la macchina dell'anno scorso, quando era praticamente non si inceppava di fronte a nulla, anche se in Europa poi ha fatto fatica. I gol potevano arrivare anche prima, per esempio questo di Marchesio di testa in tuffo, però per due volte andato in svantaggio significa che non è ancora la migliore Juve. Guarda qua il gol di Giorente, se non sbaglio, è da questo cross che Giorente trova. Bellissimo il cross, bello allo stacco, bravo a tirarla sul primo palo, insomma un gol molto bello a Samuatra, l'altro l'ha calciato benissimo, ha tagliato. Qual è la tua coppia titolare di attaccanti? Quella dell'anno scorso, Tevez-Giorente. Poi Morata ci dovrà dimostrare di essere un talento e di essere bravo anche lontano dalla Spagna, deve ancora stare bene, però io non rinuncerei a cuor leggero a Giorente, perché l'anno scorso è stato importante non solo per i gol fatti, è bravo di testa, ma secondo me non è male neanche con i piedi, governa sempre bene il pallone, fa salire la squadra, fa le sponde, a me non dispiace. Qui il gol subito con qualche disattenzione in difesa, soprattutto di Ogbonna che non è parso al meglio e poi questo gran gol di Pogba. Sì, Ogbonna è uno di quelli che ha fatto fatica nella Juve, giocando poco, facendo l'alternativa, quando è stato chiamato in causa non è stato irreprensibile, anche se come mancino, come terzo di difesa a sinistra dovrebbe andare bene. Su Pogba possiamo ripetere le solite cose, è uno molto bravo nel far gol da lontano e questa è una risorsa in più per le squadre che vogliono vincere lo scudetto, perché quando non ti fanno gol o non ti segnano gli attaccanti puoi sempre risolvere da fuori. Da fuori è segnato anche Pepe e questo è fondamentale, perché è un ragazzo che è stato due anni fermo, ha problemi muscolari, ha dovuto subire un'operazione, ma è una risorsa fondamentale per la Juve se vuole davvero ogni tanto passare al 4-3-3. Ha il secondo gol consecutivo, 4-3-3.